Circa 17 milioni di bambini in tutto il mondo hanno avuto una diagnosi di paralisi cerebrale infantile, una problematica che è intervenuta con una lesione importante al loro sistema nervoso centrale e che può dar loro delle disabilità di tipo motorio, cognitivo o comportamentale. Abbiamo cominciato a chiederci ma che cosa succederebbe se invece di andare a valutare soltanto l'esito della lesione, intervenire dal punto di vista riabilitativo soltanto sulla loro mano che non si muove o sul loro piede che cammina in maniera strana, potessimo davvero impattare attraverso una diagnosi precoce sul loro potenziale residuo. Mirrorball nasce nel 2014 con l'intenzione di creare una soluzione a 360 gradi per questi bambini e per le loro famiglie. È un corso di magia. Nell'arco di un mese, allenandosi ogni giorno per circa 45 minuti, imparano un nuovo trucco di magia. L'obiettivo nostro era stimolare soprattutto le capacità bimanuali e dei bambini che hanno ottenuto i miglioramenti, parliamo di un miglioramento medio intorno al 26-26,5%. Ci sono numerose evidenze scientifiche che suggeriscono il fatto che osservare un'azione, riprodurla internamente, quindi rappresentarla internamente attraverso l'immaginazione per poi eseguirla attivamente, quindi imitarla, possa condurre a un apprendimento motorio, a un aumento anche delle performance motorie considerate. Mirrorball si ispira sicuramente a questo concetto, a questo approccio neuroabilitativo, introducendo un'importante novità inedita, che è l'interazione fra bambino e bambino. Quello che abbiamo osservato è un miglioramento significativo delle capacità, delle funzionalità manuali, nell'arto colpito dalla parassi cerebrale, in particolare per tutto ciò che riguarda le attività bimanuali. In altre parole, i bambini sono stati in grado, al termine dell'utilizzo di Mirrorball, di adoperare con più facilità, di reclutare più volentieri l'arto deficitario nei compiti bimanuali. È importante notare che anche la compliance, l'adherence al trattamento e il growth engagement hanno mostrato un profilo veramente soddisfacente. Basti pensare che tutte le sessioni sono state svolte in modo adeguato, c'è stato un grado di soddisfazione molto particolare da parte dei bambini e le famiglie hanno partecipato in modo costante, giornaliere, in modo proficuo a tutto l'iter riabilitativo. Ciò che sembra predire, in un certo senso, la possibilità che avvenga questo miglioramento è il fatto di trovarsi a interagire con un bambino che abbia delle capacità superiori alle proprie dal punto di vista motorio. In altre parole, è come se fosse avvenuto una sorta di trascinamento, in cui il leader, o meglio chi ha la capacità di offrire delle performance migliori dal punto di vista motorio, è in grado di indurre un apprendimento motorio più efficiente in chi ha più difficoltà.